Avere degli stimoli per essere creativi è comunque utile. Il volontariato è fare una cosa che piace e che serve agli altri. Per me il significato e il volontariato è una cosa nobile che la persona fa. Per fare bene, che si senta bene di fronte all'altro. Il volontariato è lavorare senza soldi. Il volontariato, diciamo che al di là della caratterizzazione giuridica che ha il volontariato, ben precisa, mi ha colpito e credo che sia caratterizzata soprattutto dal grande impegno, dalla grande passione con cui coloro che vi appartengono svolgono le attività. Prevalentemente si tratta di attività di carattere sociale e sia a Bologna sia in Emilia sono numerose le associazioni che svolgono attività anche importanti e che quindi hanno un peso rilevante nell'ambito della società. Il volontariato è prendersi cura degli altri e avere attenzione per il prossimo. è essere a disposizione degli altri e soprattutto è ricevere più di quello che si dà perché questo è il valore aggiunto del volontariato, è la cosa bella. Il volontariato è la disponibilità di dare il proprio tempo e la propria creatività anche per fare delle cose insieme agli altri, aiutare gli altri e ricevere anche molto. è un modo per riempirmi, riempirmi di gioia direi. Questo per me è il volontariato. E infatti poco ho fatto bene con tanta voglia di stare assieme. Il volontariato definiamolo di tipo culturale in quanto noi promuoviamo la fotografia in tutti i suoi aspetti. Diciamo che noi tutto quello che facciamo, quindi le iniziative, serate, promozioni, mostre fotografiche, per quanto riguarda anche l'allestimento delle mostre, tutto gratuito, gente entra gratis, quindi le persone non spendono una lira e vengono a vedere uno spettacolo. Abbiamo fatto cinque serate di audiovisivi con autori. Quindi promuoviamo le nostre fotografie in questo modo. Quindi tutto quello che concerne la spesa è a carico del circolo fotografico. Questo è il nostro tipo di volontariato. Se si può considerare volontariato, io credo che da parte mia è senz'altro. Il volontariato per quanto mi riguarda è mettersi in gioco tutti i giorni per qualcuno, per qualcosa, per un'idea, per un valore. Il volontariato è, secondo me, accorgersi che ci sono diverse cose che non vanno e cercare di intervenire per dare una mano a risolverle. Il volontariato è la gioia di stare insieme anche, essere felici di poter dare un po' del proprio tempo agli altri. Il volontariato è quello che tiene insieme una città, perché in fondo tutti facciamo volontariato, ma siamo dentro ad un'associazione, anche se non siamo dentro ad un gruppo, però ciascuno di noi fa quelle piccolissime azioni tutti i giorni, gratuite, per fare star bene qualcun altro, qualcuno della propria famiglia, un estraneo. Soil, senza pista dimora che vive davanti al nostro ufficio e quindi volontariato è una parola che ci riguarda tutti e che tutti possiamo fare. direi un dono, un'avvicinarsi agli altri, uno stare con gli altri e un ascoltare gli altri, stare bene insieme e riuscire anche eventualmente a fare delle cose insieme, delle cose piacevoli, delle cose anche culturali, informative. Perché no? Questa sera siamo qui proprio perché l'albero del dono che ho alle mie spalle è un po' un simbolo di questo, anche un piccolissima cosa, una piccolissima azione, e certe volte anche una piccolissima parola, è un dono prezioso. Prima parola che mi viene in mente è relazione, perché aiuta la vita a far rompere le solitudini e ricostruisce quei tessuti sociali di relazioni che sono così faticosi in questo nostro momento della storia. Seconda parola ovviamente gratuità totale, dono, regalo, come questo piccolo simbolo vuole dire. Io spero che questo diventi l'albero ufficiale della città dall'anno prossimo e non resti un'esperienza così diciamo un po' marginale, un po' secondaria, ma che acquisti una dignità per tutti, che sia il valore dell'albero della città in qualche modo. Buonasera, corsi di volo gratuiti! Noi vi aspettiamo signore, volete volare un po' con noi? Noi vi aspettiamo! Noi vi aspettiamo! Noi vi aspettiamo! Noi vi aspettiamo! Grazie.